buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di fano tv sul canale 19 c'è occhio ai giornali che come sempre alle 7 del mattino è qui pronta per sfogliare le pagine dei due quotidiani che tutte le mattine esaminiamo ovvero il resto del carino il Corriere Adriatico oggi è lunedì ci sono gli inserti sportivi ci sono impaginazioni regionali come il resto del carino ci ha abituati ormai da diverso tempo ma comunque andremo a vedere a spulciare un po le notizie qua e là intanto però come sempre prima andiamo a vedere il santo di oggi è un santo importantissimo è san benedetto da norcia patrono d'europa memoria di san benedetto abate nato a norcia in umbria però educato a roma iniziò a condurre poi una vita eremitica nella regione subiaco raccogliendo intorno a sé molti discepoli spostatosi poi a cassino fondò qui il celebre monastero e scrisse la regola la famosa regola di san benedetto oret labora che tanto si diffuse in ogni luogo il sole è sorto le 5 35 tramonterà alle 20 e 50 tra l'altro ricordiamo che a fano perché nelle nostre parti ci abbiamo anche un bel monastero benedettino con le suore di clausura benedettine sul colle che va per monte giove allora adesso invece andiamo a vedere un attimo le previsioni del tempo perché voglio segnalarvi non tanto la giornata di oggi che più o meno trascorrerà così con delle della nuvolosità anche lungo la costa ma avremo un po nel pomeriggio possibili locali brevi rovesci in montagna soprattutto nel sui sibillini però è domani domani martedì 12 luglio vedete un po di pioggia sui settori interni rovescio temporali sparsi a partire dalle ore centrali della giornata chissà che poi questo questo questa pioggia non arrivi un po anche a toccare la costa perché comunque ricordiamo che di acqua abbiamo assolutamente bisogno dicevamo allora dei giornali però prima dei giornali io voglio andare a salutare il nostro bagnino di questa settimana che è collegato con noi mamma mia che spettacolo questa mattina questa immagine stupenda questo sembra sembra un quadro quello che hai alle spalle in realtà è tutto vero buongiorno al nostro ospite che ci terrà compagnia tutta la settimana siamo esattamente dove ce lo dici tu siamo a ponte sasso precisamente ai bagnalda buongiorno a tutti ecco ponte sasso siamo quindi a fano sotto sotto fa esatto esatto al limite proprio al limite poi dopo di te c'è verso sud che c'è mondo mondo e marotta di mondolfo marotta di mondolfo poi c'è senigallia spiagge di vellute giù giù tutta la costa triatica marchigiana che è meravigliosa e un esempio l'abbiamo già questa mattina con questa immagine stupenda allora bagnalda bagnalda che in questi giorni ha da fare perché alle prese con un'ondata di turisti non solo turisti ma anche residenti mi pare vero sì molti molti turisti diversi residenti e logicamente durasse senti marco allora tra poco darò un'occhiata daremo un'occhiata ai giornali ci sono anche oggi pagine dedicate alla tragedia che si è consumata qualche giorno fa poco più a nord della spiaggia che gestisci tu adesso al netto delle polemiche perché credo che il silenzio sia la cosa migliore il rispetto per la famiglia sia sicuramente quello che dobbiamo avere tutti niente polemiche come al solito su facebook anche sulle nostre pagine abbiamo letto di tutto di più giudizi tutti moralisti tutti bravi tutti bagnini tutti esperti di mare eccetera eccetera ecco però io vorrei che tu in questa mattinata di là ecco della di tutto vorrei che dicessi ricordassi un po quali sono le regole fondamentali per chi viene lì da voi al mare e questo valgono sia per i turisti che non conoscono magari il mare perché non ce l'hanno sotto casa ma anche per quelli che il mare invece ce l'hanno allora ce le ricordi per favore marco sì decisamente che bisogna avere sempre rispetto del mare del mare e quando quando fate il bagno che è andata a largo non mettete a rischio solo solo vita la vostra vita ma anche quella dei bagnini che vi devono poi venire a salvare perciò un attimino di di pazienza state più arriva se il bagnino vi fischia non è che perché gli stati antipatici perché vi vuole mettere in sicurezza perciò state dove c'è le boe del limite acqua sicure che c'è un metro d'acqua l'acqua c'è anche lì non non serve a nulla arrivare a largo e poi dopo succedono queste tragedie purtroppo e ecco tra l'altro marco è importante ricordare che se anche c'è la bandiera rossa che indica pericolo oppure indica che non c'è il salvamento che non ci sono le persone che vi possano appunto proteggere anche con un fischio richiamandovi con un fischio voi non potete impedire cioè vietare ad una persona di andare in acqua giusto? No possiamo consigliare vediamo di loro però ecco non possiamo vietare niente a nessuno logicamente se uno va verso il largo che vede che è una situazione di pericolo cerchi di andare là magari con il pattino e farlo tornare indietro ma qualche volta qualcuno è un po' succone non possiamo dire e pensa di saper nuotare ma come si vede indietro è molto grande anche perché il mare ha le sue insidie che è un po' come noi che non siamo di montagna quando andiamo in montagna chiaramente per noi può essere una situazione normale ma per chi è invece abituato a stare lì in quei posti conosce quelle insidie che molti ignorano sì decisamente ma anche quando c'è lo stesso il garbino che il mare è una tavola però ti porta verso fuori poi non riesci a tornare indietro quando ci sono questi cavalloni che sono bellissimi per fare il bagno con i materassini tutto quello che non vuole però ti tirano sotto ti tirano indietro perciò fai due metri avanti e cinque indietro perciò state sulla riva non è che non dovete farlo il bagno ma state sulla riva state vicini anche perché poi in quelle situazioni io l'ho provato quando ero un ragazzino ti prende la paura e quindi con la paura dopo ti paralizzi e macello e quindi così alla prima sorsata d'acqua esatto se non tocchi i piedi a terra e poi non riesci più a respirare ecco questo per dire massimo rispetto silenzio vicinanza tanta preghiera soprattutto per queste persone per questa famiglia ma soprattutto cerchiamo di trarre degli insegnamenti da queste tragedie che credo sia la cosa migliore da fare anche se poi la storia ci insegna che purtroppo ha cattivi alunni allora io intanto Marco oggi ti saluto il collegamento finisce qui grazie per la tua disponibilità adesso noi invece andiamo a leggere i giornali e iniziamo dal resto del carino delle Marche il resto del carino delle Marche questa mattina apre con questa prima pagina qui come vedete sono tante le notizie raggruppate provincia per provincia abbiamo qui a destra la provincia di Pesaro dove in primo piano la notizia del padre e figlio annegati dopo doppio lutto cittadino vi saremmo vicini parlano i sindaci di Colli al Metauro e di Terre Roveresche che si uniscono al dolore della famiglia e il carino informa che la data dei funerali sono ancora da fissare questo per quanto riguarda la provincia di Pesaro e Urbino poi invece da Ancona, piazza d'armi via alla rivoluzione in consiglio comunale parte l'iter per la ristrutturazione nuovo mercato e hub per gli autobus extraurbani da Macerata invece ragazzi al lavoro per pulire la città troviamo nuovi amici mentre sotto il Covid non si ferma contagi e ricoveri in rialzo ma io direi insomma niente paura stiamo tranquilli e avanti con prudenza allora mamma Stefania dice non ce la faccio questo è il titolo sul Corriere Adriatico di oggi ha visto morire il marito e il figlio di otto anni ieri è andata ad Ancona all'ospedale al Salesi a trovare l'altro figlio il dodicenne che si è salvato è crollata all'arrivo in ospedale poi ha trovato il coraggio di entrare nel reparto di rianimazione dove appunto è ricoverato Luca e la centropagina invece il boom di prenotazioni nelle Marche il nostro turismo che vola si rivede dunque chi si rivede il turista è straniero questo è il titolo con la fotonotizia mentre sulle prove in Valsi qui parliamo di scuola no speak English cioè non parlo inglese siamo marchigiani ma con i conti va alla grande vedremo tra poco come i marchigiani siano molto più bravi in matematica che in lingue straniere quindi nello specifico nella lingua inglese a Pesaro invece Fiorenzuola torna il servizio in spiaggia anche contro i falò che sono pericolosissimi lo ricordiamo la maggioranza invece è sempre a Pesaro e qui parliamo di politica via Marche Nord sanità a rischio da Urbino invece sicurezza idrica ci vuole un mix di nuove soluzioni soprattutto per far fronte a questo periodo di siccità l'Inps restituisce i soldi ma è soltanto una truffa false impiegate tentano di raggirare gli utenti scattano le segnalazioni alle forze dell'ordine poi sulla casa di riposo rincicotti assemblea per decidere il suo futuro il turismo dicevamo allora fa il botto 5% in più sull'era prima del Covid e tornano anche gli stranieri a fare di nuovo capolino nelle Marche sono in particolare gli olandesi gli inglesi e i tedeschi nel solo mese di giugno sono arrivati qui nelle Marche in 60.000 il governatore Acquaroli dice accogliamo con ottimismo questi segnali ora toccherà all'ATIM programmare la prossima stagione ed è qui vedete in questo riquadro un po' con i numeri quelli che sono gli arrivi le presenze nella nostra regione tra il dato di maggio tra gennaio e maggio e anche il dato degli stranieri poi c'è anche il dato di giugno vedete più 5% di presenza rispetto al 2019 quindi prima dell'inizio della pandemia 60.000 gli stranieri 280.000 i pernottamenti insomma ci sono due pagine questa mattina che il Corriere Adriatico vuole dedicato al turismo marchigiano e per esempio come dice ConfCommercio attraverso Polacco luglio e agosto sono sold out cioè tutto esaurito settembre invece è ancora fermo ma nell'altra pagina che non ho selezionato questa mattina ma comunque nell'altra pagina addirittura qui in provincia si parla di presenze anche di pienone anche per il mese di settembre invece sul fronte diciamo scolastico gli studenti marchigiani a pagina 4 il Corriere titola brillano in matematica ma arrancano con l'inglese i risultati delle prove invalsi premiano i licei meno gli istituti professionali trend di miglioramento dopo due anni di pandemia e didattica a distanza anche qui un grafico che dà il senso un po' di tutta la situazione i risultati delle scuole superiori con le percentuali di chi ha preso insomma buoni voti e chi invece un po' un po' meno per quanto riguarda invece sempre dal Corriere Adriatico la movida la cosiddetta movida cioè il fenomeno dei giovani di chi vuole divertirsi perché magari appunto è in vacanza e quant'altro la movida silenziata al viale cioè su viale Trieste qui siamo a Pesaro si è trasferita da un'altra parte cioè sottomonte il risultato della combinazione di controlli e feste in spiaggia poi riaperto il sentiero delle passioni a cinque anni dal grande incendio recuperata nel parco San Bartolo una delle più suggestive attrattive che è appunto questo sentiero delle passioni di Fiorenzuola incastonato nella falese a ridosso di strada della Marina poi invece c'è un'iniziativa alla palla alla palla di Pomodoro quindi a Pesaro si balla alla palla si propone questa sera il meglio delle Signore della Musica in questo articolo c'è un po' tutto il programma e adesso invece apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico la pagina di Fano è titola così come in apertura non ce la faccio non ce la faccio sono le parole di mamma Stefania Stefania che riabbraccia suo figlio quello che si è salvato lo sfogo la mattina poi nel pomeriggio è tornata in visita al Salesi migliorano e questa è la buona notizia le condizioni del 12enne e questo articolo che porta la firma di Osvaldo Scatassi sulla pagina di Fano intanto vedete qui sotto la fotografia di Davide Zandri che aveva solo i 44 anni e che per salvare il figlioletto di 8 anni e anche l'altro di 12 ha perso la vita il 12enne come dicevamo è sopravvissuto alla tragedia di sabato scorso avvenuta in un braccio di mare davanti alla spiaggia libera a Gimara di Fano in una caletta dove inizia la massicciata radente alla linea ferroviaria hanno invece perso la vita il suo fratellino Fabio di nemmeno 8 anni e il suo papà Davide Zandri operaio metalmeccanico 44enne che lavora lavorava alla Profinglass originaria di Cartoceto la famiglia 43 anni anzi lei Stefania era stata trasportata all'ospedale Santa Croce per un forte stato di shock dopo che nel giro di pochi secondi aveva visto sparire in acqua suo marito e due dei loro figli il terzo invece un 15enne era rimasto a casa a Calcinelli ieri le salme del piccolo Fabio e del suo papà erano ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio dell'ospedale Santa Croce di Fano ma sembra di fatto esclusa la necessità di un esame autoptico però ancora come dicevamo la data dei funerali è da stabilire gli zandri sono originari di Rupoli a Orciano di Terre Roveresche dove è tuttora la casa di famiglia e insomma in questo articolo intanto vedete qua nella fotografia questo mazzo di fiori che è stato deposto sul luogo negli scogli sugli scogli dove è stato ritrovato il corpicino del piccolo bambino di otto anni Fabio e dunque sotto invece ci vuole più formazione maggiori controlli per rotta e le regole della sicurezza si tratta di un algoritmo si parla di sicurezza in questo caso di sicurezza in acqua di sicurezza in mare e non è mai abbastanza l'informazione che si fa che si cerca di fare in qualche modo sulla pagina 17 invece del Corriere Adriatico ancora altre notizie che riguardano questa tragedia il giorno dell'addio sarà lutto cittadino questo è un virgolettato perché sono parole del sindaco che anche lui è in attesa della data dei funerali ma saranno probabilmente tra domani martedì e mercoledì e qui vedete appunto il Pietro Briganti che è il sindaco di Colle del Metauro che ha deciso di dichiarare lutto cittadino e poi parla in questo articolo la firma di Roberto Giungi parla di Davide Davide il papà che era un ragazzo splendido e riservato nella sua vita privata tutto caso e famiglia praticamente aveva un grande senso della famiglia questo 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 uomo e lo ricorda appunto il il sindaco ma ancora c'è sulla pagina del Corriere Adriatico l'omelia che ieri il vescovo di Fano Trasarti ha fatto durante la messa di San Paterniano in realtà non era durante l'omeria all'inizio della messa ha ricordato appunto la famiglia che è stata colpita da questo immenso dolore e celebrando appunto ieri la ricorrenza di San Paterniano il vescovo di Fano ha iniziato la messa con parole commosse per quanto è avvenuto un grande dolore ha detto pervade tutto il nostro territorio un bambino di 8 anni un papà di 44 due figli che rimangono ora senza padre senza il fratello e una moglie tremendamente colpita per quanto è avvenuto sono stati coinvolti in un terribile evento il mare si è preso due vite noi non abbiamo le risposte per tutto forse dovremmo tacere capire non giustificare ma nemmeno giudicare la vita è un dono prezioso cerchiamo di utilizzarla al meglio e il più possibile sono le parole appunto del vescovo e sulla pagina invece del resto del carlino anche qui una bellissima foto di Davide con il piccolo Fabio l'immagine di qualche anno fa entrambi annegati scrive la disescalia sabato mattina a Gimarra Davide e Fabio doppio lutto cittadino sconvolti da una tragedia in mane colli al metauro e terre roveresche unite dal dolore per il papà il figlioletto inghiottito dalle onde da fissare la data del funerale comunque entro mercoledì i sindaci dicono saremo vicini alla famiglia e le parole del sindaco di Fano e del vescovo seri è la festa del patrono ma è uno dei giorni più tristi è stata una giornata mesta per Fano quella di ieri nonostante si festeggiasse il patrono della città una giornata di festa segnata dalla tristezza per il grave lutto che ha colpito che l'ha colpita la comunità alla vigilia del santo protettore poi anche qui Tiziana Petrelli ricorda le parole del vescovo Trasarti nella sua omelia dove ha parlato del dolore ma anche della speranza di una città che deve rivolgere lo sguardo verso gli ultimi l'altra pagina invece del resto del Carlino siamo a pagina 3 il piano di sicurezza in mare fu bocciato parla uno dei bagnini che ha tentato di salvare padre e figlio serviva un serio pattugliamento delle coste specie per le spiagge libere nel luogo della tragedia ieri era tornato tutto alla normalità neanche fiori in ricordo delle vittime qui parla Enzo Maggi 55 anni che gestisce 6 torrette di salvataggio sulle spiagge liberi di Marotta e come avete sentito insomma sono anche loro un po' non dico arrabbiati perché non è questione di essere arrabbiati certamente anche loro devono fare i conti con la propria vita con la propria sicurezza prima di andare in onda Marco mi raccontava perché gli chiedevo alcune cose circa la sicurezza in mare mi raccontava di come molte persone pensando di essere dei supereroi anche a età avanzate sfidano se stessi magari pensando ecco di avere salute corpo fisico tutto a posto ma in realtà poi spesso si trovano in difficoltà e mettono in difficoltà anche loro quindi il racconto che a caldo ha fatto anche Enzo Maggi anche ai nostri microfoni noi abbiamo raccontato sin da subito questa tragedia su Facebook le parole erano di anche un po' di rabbia rabbia per delle tragedie che secondo loro e secondo lui si potevano comunque evitare ma ripeto senza dare giudizi perché non è il caso adesso di dare nessun giudizio ma semplicemente di trarre degli insegnamenti sperando che serva a qualche cosa anche perché non ricordiamoci non dimentichiamoci che non più tardi qualche anno fa sempre Maggi e il suo team hanno perso ha perso un collega adesso mi sfugge il nome un collega che ha perso la vita proprio per salvare un ragazzo mi pare un ragazzetto ecco quindi di questo bisogna tenere conto adesso andiamo avanti con i giornali siamo a pagina 11 del Corriere Adriatico la notizia riguarda arriva da Monbaroccio siamo all'interno della provincia e riguarda il briciotti che è in abbandono né abbandono né demolizione assicura il sindaco il sindaco di Monbaroccio ha convocato l'assemblea con i residenti per questo pomeriggio come sarà il briciotti di domani la risposta uscirà da questa assemblea pubblica convocata per questo pomeriggio alle 18.30 dove si affronterà il futuro della struttura l'incontro è stato convocato dall'amministrazione comunale di Monbaroccio e si terrà nel chiostro della chiesa di San Marco sotto invece un'altra notizia di cronaca che arriva da Cantiano siamo quasi al confine con l'Umbria pauroso schianto lungo la Flaminia un motociclista è in serie condizioni l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nella zona di Cantiano sul posto si sono portati i carabinieri di Fossombrone mentre la madre questo è un altro dramma la madre scopre il figlio morto in casa nel pomeriggio di ieri in un'abitazione lungo via Ponchielli siamo a Pesaro una mamma che cercava il figlio l'ha trovato privo di vita in bagno una scoperta tragica uno shock per la donna che ha chiamato subito i soccorsi sul posto il 118 l'uomo un giovane che aveva 30 anni per lui non c'è stato più niente da fare la madre lo ha trovato impiccato appeso alla porta del bagno sempre dalla cronaca pesarese si spaccia per un'impiegata dell'Inps e chiede Liban per restituire le tasse Liban il codice bancario che serve per fare bonifici per avere soldi eccetera la donna contattata sospetta la truffa e quindi fiuta che c'è qualcosa che non va segnala il tentativo di raggirlo alla polizia che invita però sempre a fare attenzione quindi in questo caso la truffa ha come soggetto protagonista una impiegata dell'Inps ecco quindi memorizzate questa cosa se qualcuno si spaccia per impiegata dell'Inps e vi chiede Liban bancario sappiate che dietro al 99,9% c'è una truffa ma poi ci sono anche i topi d'auto che si pensavano spariti invece no esistono ancora i topi d'auto e hanno colpito a Villa Marina sempre a Pesero vetri rotti ai mezzi lasciati parcheggiati le vittime del furto sono turisti francesi riaperto il sentiero delle passioni abbiamo già visto che collega Fiorenzuola di Focara fino al mare era stato chiuso per gli effetti devastanti dell'incendio del 2017 poi l'altra notizia riguarda i funerali in cattedrale alle ore 15 di Giuseppe Fanuli il presidente del tribunale che è stato stroncato da un infarto in casa a 65 anni la salma verrà poi tumulata a Treglia nel Maceratese dove vive la famiglia di origine anche qua il Carlino pubblica la notizia di un infermiere che si uccide impiccandosi in casa aveva soli 29 anni TZ queste sono le iniziali faceva l'infermiere e stava appunto abitava in via Ponchielli a Pesero a Terre Rovedesche invece Mondavio e Fratterosa tre comuni in piazza contro il bio di gestore di barchi tutti questi tre comuni annunciano una manifestazione a Fano una manifestazione a Fano che dovrebbe tenersi appunto ed è stata autorizzata dalla questura il 20 di luglio da Urbino invece soltanto il titolo andiamo velocemente necessario un mix di soluzioni per garantire la sicurezza idrica il gota dell'acqua ad Urbino a confronto sindaci e gestori sui provvedimenti da adottare spacciava in supercar invece siamo a Senigallia arrestato dopo una serie di appostamenti la polizia è riuscita a bloccare un 35enne che aveva dosi e denaro poi Falconara chiede aiuto per l'annegamento ma era un falso allarme Senigallia giovani tra droghe e alcol scattano controlli e denunce e poi ancora da Senigallia però questa volta il corriere spacciava eroina con la supercar tossico pusher finisce in trappola c'è spazio per una brevissima di sport un titolo le mosse di russo per il Fano il patrono impegnato tra mercato e società importante innesto nello staff medico torna il dottor Pierboni per l'attacco piace sempre Padovani che vorrebbe seguire Mosconi dopo l'avventura insieme al Tolentino e con questa notizia che riguarda il Fano Calcio noi ci fermiamo qui grazie come sempre per averci seguito vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia il telegiornale di Fano TV a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti